Ben ritrovati con l'informazione di TRM H24, una buona epifania da parte di tutta la redazione. Iniziamo proprio raccontando tutti gli eventi che si sono svolti sui nostri territori in questa occasione. Si rinnova la visita del sindaco di Bari Antonio De Caro nel carcere minorile Fornelli del capoluogo pugliese. Un'occasione non solo per consegnare doni ai ragazzi ma anche per riflettere sul loro futuro. Sentiamo. Una calza piena di dolci e una tuta sportiva. E' questo il dono della WISP Bari ai ragazzi detenuti nel carcere minorile Fornelli. Un gesto che arriva nel giorno dell'epifania per ricordare che chi sbaglia paga ma allo stesso tempo riflettere i suoi propri errori. All'iniziativa ormai consolidata da anni ha partecipato anche il sindaco Antonio De Caro. La giornata della Befana è una giornata dedicata ai ragazzi e ai doni per i ragazzi. Abbiamo voluto anche quest'anno mantenere la tradizione insieme alla WISP consegnando le calze con all'interno le cioccolate e anche le tute giniche per fare attività fisica. Gli sono ragazzi che hanno commesso degli errori e che stanno cercando un modo per poter recuperare il rapporto con la comunità. Un dolce augurio per un futuro all'insegna dello sport. La WISP è sempre in prima linea al fianco dei ragazzi. Si tratta di un'iniziativa che fa parte di un progetto di più ampio respiro. Le attività motori a favore dei ragazzi che da oltre 30 anni noi svolgiamo all'interno dell'istituto penale minorile. Poi esiste un progetto nel progetto che prevede il contatto con l'esterno all'obiettivo di far sentir meno ai ragazzi l'isolamento che in alcuni contesti il clima natalizio porta. L'arrivo della Befana in carcere porta un sorriso o momento di leggerezza in un percorso di vita fatto di scelte e cambiamenti. La vera sfida adesso che attende i ragazzi è quella che accadrà fuori da quelle mura in una società che comunque è pronta ad accoglierli. L'inserimento sociale deve avvenire attraverso quella rete delle istituzioni con le aziende perché il problema più grosso che hanno questi ragazzi è dopo aver commesso un errore la difficoltà magari a trovare un lavoro proprio perché hanno commesso quell'errore. E si rinnova a Bari anche la visita all'ospedale pediatrico proprio in occasione della Befana che ha consegnato ai giovani pazienti cioccolatini e dolciumi presenti anche clown e supereroi. Nel corso della mattinata sono stati anche consegnati premi di solidarietà. Sorrisi e cioccolatini nel giorno dell'epifania anche per i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La Befana ha visitato i piccoli pazienti insieme a supereroi, volontari dei Vigili del Fuoco, operatori del 118 e i clown del Circo Togni che con uno spettacolo circense hanno animato una mattinata. Un appuntamento dedicato ai bambini con momenti di leggerezza e divertimento organizzato come ogni anno dall'associazione Impegno 95. Li organizziamo tutte le volte ma non soltanto per la Befana ma anche per la Pasqua, per la festa della mamma. Insomma, quindi regalare appunto un sorriso a questi bambini che sono presenti qui in ospedale. Il sorriso è importante perché loro dobbiamo fare in modo che loro devono pensare soltanto alla crescita e vivere per bene con la propria famiglia e non pensare che in questo momento sono in ospedale. Nel corso della mattinata sono stati anche consegnati i premi di solidarietà che quest'anno sono andati agli artisti Tiziana Schiavarelli, Umberto Sardella e Dante Marmone oltre che a un'associazione iraniana che ha portato la testimonianza di quanto sta accadendo in Iran e ad altre realtà attive nel mondo della solidarietà. Quest'anno dobbiamo premiare anche Amnesty International che è per i diritti umani e ci sarà anche la comunità iraniana, ci sarà una delegata, una ragazza iraniana e ci parlerà appunto di questi problemi che stanno accadendo sempre riguardanti in Iran. Presente il sindaco della città di Bari Antonio De Caro e a sorpresa si è collegato telefonicamente per un saluto il cantautore pugliese Albano Carrisi che ha ribadito l'importanza di queste iniziative e quella del valore della pace e della libertà. Io mi auguro che le cose ritornino sulla strada della normalità come giusto che sia e che ognuno di noi abbia diritto a quella parola meravigliosa che si chiama libertà. Si rinnova a Matera l'appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco. Oggi ancora una volta ci ritroviamo qui per festeggiare l'Epifania con i bambini, tradizione che va avanti dal 1943 al comando di Matera e quindi abbiamo questo bello onore. Ci occupiamo di tante cose in collaborazione col comando e in collaborazione proprio a livello nazionale con i dirigenti massimi del corpo nazionale nonché il capodipartimento. Ci occupiamo di diffusione della cultura e della sicurezza, di solidarietà e di tutto quello che può essere la nostra esperienza vissuta nell'operatività con i cittadini. Voglio ringraziare tutti quelli che collaborano per l'uscita di questa giornata. In primis l'associazione, ma anche tutti i vigili, ma tutte le famiglie, tutti i vigili che vengono di libero da servizio, che portano i bambini. È una cosa positiva. Non vogliamo assolutamente rinunciare a questa iniziativa perché significa aprire una volta di più le porte della caserma a tutti, ai bambini che adorano i Vigili del Fuoco e a tutti quanti gli altri, anche ai genitori che li accompagnano che non, sinceramente, pure loro forse un po' la bevano, la vogliono vedere perché poi è la nostra, anche se la nostra due sanno, è un po' anzianotta. Ce la fa comunque, se la fa, sale sul castello, poi scende dal castello, porta le caramelle perché i bambini sono felicissimi di questa cosa. C'è una stretta collaborazione con il comando per organizzare attività e manifestazioni come questa. Ci siamo attivati direttamente per tutta l'organizzazione che è stata anche abbastanza complessa, ma che non si ferma qui. Tant'è vero che noi abbiamo anche contribuito in qualche maniera con la donazione di panettoni al Brancaccio, all'RSA e ci stiamo organizzando anche per andare a trovare quindi i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale di Matera. E concludiamo questo spazio dedicato ai festeggiamenti per l'Epifania dando spazio anche ai momenti più strettamente legati alla fede con la messa per l'Epifania TRM Network, la trasmessa in diretta da Molfetta dove frate Alessandro Mastromatteo, ministro provinciale dei frati minori di Puglia e Molise ha spiegato la figura dei magi e invitato i fedeli a ispirarsi al loro cammino compiuto per andare ad adorare Gesù nella grotta. Sono stati scritti fiumi di libri sui magi, su chi sono i magi. Certamente sono uomini motivati dalla ricerca della verità si lasciano condurre da una stella, si mettono in cammino, giungono alla grotta e cosa ci dice il testo sacro? Adorano Dio. Guidati da una cometa i tre re magi giunsero nella grotta di Betlemme proprio nel giorno dell'Epifania. Racconta questo il passo del Vangelo secondo Matteo letto oggi durante la solenne messa che TRM ha trasmesso in diretta dalla Basilica della Madonna dei Martiri di Molfetta. A celebrarla frate Alessandro Mastromatteo, ministro provinciale dei frati minori di Puglia e Molise che ha sottolineato come per adorare Dio ci sia bisogno di smuoversi e di mettersi in cammino proprio come hanno fatto i magi, a differenza invece del re di Giudea e Erode. Chi rimane nelle proprie idee comodamente seduto a casa, detto frate Alessandro, pensa soltanto di aver conosciuto Dio. Ecco allora che questa pagina del Vangelo odierna è paradigmatica per il nostro cammino di vita cristiana. Possiamo essere come Erode, piegati nell'adorazione verso se stesso e dunque possiamo essere come Lui, ripiegati su di noi, su noi stessi. Oppure possiamo essere come i magi, uomini che si mettono in cammino con tutti i rischi che il cammino porta con sé, condotti dalla stella per giungere alla grotta e contemplare, adorare. Chi adora Dio smette di adorare se stesso. E con l'Epifania si apre anche il fine settimana dedicato appunto agli ultimi compri, agli ultimi acquisti ma anche agli ultimi spostamenti. Abbiamo fatto il punto con CNA Turismo e Commercio per capire quali sono le aspettative per la chiusura di questo periodo di festività, con un focus particolare sui territori della Basilicata. Sette milioni di turisti saranno in viaggio nel fine settimana dell'Epifania. Lo prevede un'indagine di CNA Turismo e Commercio condotta tra gli iscritti di tutta Italia, dalla quale emerge anche la presenza sul territorio nazionale di circa 800.000 vacanzieri stranieri. Nel complesso la spesa stimata nel periodo si aggira intorno ai 3,5 miliardi di euro fra trasporti e alloggi, ristorazione, shopping, attività sportive e ricreative. La Basilicata conferma una buona performance, soprattutto in virtù dei tanti parchi ed aree protette presenti nel territorio regionale e dei tanti borghi accoglienti ed ospitali, con un importante primato per Matera. Condizioni atmosferiche permettendo saranno non meno di 7 milioni. Turisti che si metteranno in viaggio tra venerdì 6 e domenica 8 gennaio 2023 in Italia. Per quanto riguarda i turisti stranieri, circa 800.000 sono in arrivo principalmente da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Dovrebbero ammontare a 2,5 milioni pernottamenti in strutture ricettive. Buona parte dei turisti, di conseguenza, si recherà nelle seconde case, soprattutto in località sciistiche, oppure limiterà la propria vacanza a gite di un solo giorno. Cambiamo decisamente argomento, torniamo ad occuparci di Covid. Nell'ultima settimana la situazione è in peggioramento dal punto di vista dei contagi. La Puglia è stata classificata a rischio alto. Il Covid torna a preoccupare. La Puglia è tra le regioni classificate a rischio alto insieme a Lazio e all'Umbria per le numerose allerte di resilienza del contagio segnalate dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Una situazione in peggioramento sulla quale hanno probabilmente inciso le festività natalizie per il nuovo anno. Appena una settimana fa, infatti, nessuna regione in Italia era stata classificata a rischio alto. In appena sette giorni la percentuale dei contagi è cresciuta in Puglia del 44%, arrivando a oltre 280 casi ogni 100.000 abitanti. A rovinare le feste ci ha pensato tuttavia anche l'influenza stagionale, denominata australiana, che in Puglia ha colpito 300.000 persone. Dal fronte Covid peggiora anche la Basilicata. Resta classificata a rischio moderato, tuttavia la percentuale di occupazione dei reparti ordinari negli ospedali è al 15,2%, appena sopra la soglia di allerta fissata dal Governo al 15. Questa notte a Gallipoli i Vigili del Fuoco sono intervenuti per sedare il ruogo partito da un'auto parcheggiata in via di Cordova, prima che potesse espandersi alle altre vetture e alle abitazioni vicine. Si tratta dell'ennesimo caso registrato nell'area Salentina di un'auto data alle fiamme. Gli ultimi due episodi sono stati segnalati tra ottobre e novembre scorsi. Sull'accaduto sono in corso delle indagini per chiarire da dove sia partito l'incendio e se si tratti di un atto doloso. E cambiamo ora argomento. Chi restituirà il guanto di San Pio da Pietralcina, rubato quasi cinque anni fa a San Giovanni Rotondo, siamo nel Foggiano, e si autodenuncerà, riceverà 5.000 euro. La ricompensa è assicurata da Giuseppe Saldutto, già presidente dell'associazione Pro Padre Pio, l'uomo della sofferenza di Torino, che ha chiesto di restituire alle suore di Santa Chiara il guanto reliquia del frate. Con l'estima della notizia è stata riportata dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. La reliquia, lo ricordiamo, fu trafugata da una teca dell'Istituto delle Suore di Santa Chiara a San Giovanni Rotondo e da allora non se ne è saputo più nulla. Tuttavia, l'ipotesi che il ladro restituisca la reliquia e si autodenunci per ottenere la ricompensa sembra essere abbastanza remota. E cambiamo ora argomento. Ci occupiamo di mobilità sostenibile. Bari punta al green e alla sostenibilità appunto. Sono in arrivo 200 biciclette in modalità di bike sharing. Nuovo bike sharing a Bari in un'ottica green e di condivisione. A partire dalla prossima settimana, infatti, saranno installate le prime biciclette del nuovo progetto che in tutto vedrà 200 mezzi su due ruote da condividere. La notizia è stata diffusa dopo l'approvazione della determina che autorizza la fornitura e l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale in prossimità delle prime 50 stazioni di bike sharing previste nell'ambito del servizio affidato alla Vaimo SRL per 19 anni, dando così avvio alla fase di implementazione del servizio. Dalla prossima settimana si procederà con le prime installazioni, che saranno 50 entro il 27 gennaio e 120 in totale con l'entrata al regime del servizio. Le biciclette previste per la dotazione delle prime stazioni saranno in tutto 200, cui seguiranno ulteriori 130 entro il 29 settembre, per poi garantire la flotta completa che prevede 730 mezzi entro 7 anni dall'avvio del servizio. L'ulteriore passo in avanti per Bari, ha commentato il sindaco Antonio De Caro, serve per incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'utilizzo dell'auto privata per gli spostamenti in città. Gli uffici, fa sapere De Caro, stanno lavorando alla progettazione dei nuovi itinerari ciclabili per oltre 35 chilometri già finanziati, che offriranno così ai ciclisti e agli utenti del nuovo servizio un'infrastruttura ciclabile efficace per garantire gli spostamenti in città. Un ulteriore servizio garantito quindi, che si va ad aggiungere alla notizia della riduzione del costo dell'abbonamento annuale dei mezzi di trasporto pubblico urbano, da 250 ai 20 euro, finalizzati a incentivare i cittadini a lasciare a casa le proprie auto e mezzi e fare scelte green e sostenibili. Ci spostiamo in Basilicata. A partire dal 1 gennaio è stato avviato il progetto di ricerca internazionale sui castelli federiciani della Basilicata, promosso da una prestigiosa Università di Berlino. Il progetto ha come obiettivo lo studio della dimensione architettonica e delle fasi di realizzazione delle residenze normanne e sveve del Mezzogiorno d'Italia, tra cui i castelli di Lago Pesole e di Palazzo San Gervasio. Castelli visitati lo scorso mese di settembre da alcuni ricercatori dell'Università di Vienna, unitamente a Mario Saluzzi. Restiamo in Basilicata, ma ci occupiamo di arte e di solidarietà. Ieri sera ad Acerenza un concerto di beneficenza per la lotta al retinoblastoma. Vediamo. Musica per l'AILR. Ad Acerenza il concerto di beneficenza per la lotta al retinoblastoma, organizzato per dare un importante contributo a chi soffre di questo tumore, quindi alla ricerca. Il ricavato della vendita del cosiddetto nocciolato verrà interamente dato all'Associazione Italiana per la lotta al retinoblastoma. In scena, musicisti affermati a livello regionale, Gianni Basilio, Mauro Fortezza, Danilo Vignola e Gio di Donna, tutti coinvolti gratuitamente dall'amico Tiziano Cillis. Il retinoblastoma è un tumore pediatrico della retina, dell'occhio, e quindi ci sono pochissimi studi per appunto curare questa malattia. Uno importantissimo in Italia è quello del Bambin Gesù, dove degli ottimi medici, Antonino Romanzo e la sua equippa, hanno diversi studi su questa patologia. La comunità di Acerenza ci è stata veramente vicina. Abbiamo sentito un calore immenso, una solidarietà unica. Io sono orgoglioso di farle parte di questa comunità. A Taranto, in scena, la storica band di Pino Daniele per una serata da tutto esaurito. A sette anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la città di Taranto ricorda l'iconico cantautore ospitando sul palco del Teatro Fusco i componenti della band, nonché storici amici, Gigi Derienzo, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo. I Friends for Pino, il nome della formazione, hanno registrato il tutto esaurito, regalando momenti di gioia e passione al pubblico. Pino Daniele, hanno sottolineato, è stato un punto di riferimento per la musica italiana. Un musicista prima che un cantante, complesso e allo stesso tempo popolare. Lui diciamo che cantava così proprio perché suonava uno strumento. Cioè la priorità di Pino, la caratteristica è che lui non nasce come cantautore, ma nasce come chitarrista. Per cui il chitarrista, quando ha una cultura musicale diversa, un cantante normalmente impara due o tre accordi e fa le canzoni. Però mi ricordo una volta che mi fecero un'intervista che io c'era, e un giornalista, questo stiamo parlando nell'80, e un giornalista chiede, Pino, ma tu che cosa pensi nel 2000 e cosa succederà nella musica? Non so che succederà, ma sicuramente ci sarà ancora Gianni Moraglio, disse. Ed era vero, ed è ancora ad oggi ci sta. Sono passati 40 anni, non 20. La gente ha bisogno della musica. La gente dopo un periodo così brutto, così doloroso, di annientamento artistico, questa pandemia che ci ha tolto più di due anni di attività, ha avuto adesso un gran bisogno di ritornare ad amare gli artisti che li hanno fatti sognare. Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione comunale, che inaugura così la stagione musicale del 2023. Beh, se posso dirlo, questa è la chicca sicuramente della stagione del Teatro Comunale Fusco, un progetto esclusivo. Credo che questa sia una cosa importante, al di là del fatto che sia importante per noi, come amministrazione, per il nostro teatro comunale, ma credo che sia importante per la città. Passiamo alle notizie sportive. Torniamo ad occuparci del caso che ha visto ululati razzisti durante la partita Lecce-Lazio nei confronti dei giallorossi, Umtiti e Banda. Da più parti è stata espressa vicinanza al difensore francese del Barcellona, club proprietario del cartellino appunto del giocatore. Sentiamo. Il mondo del calcio fa scudo attorno a Banda e Umtiti. I due calciatori del Lecce sono stati oggetto di ululati e insulti razzisti durante la partita tra i giallorossi e la Lazio. A fine partita Umtiti, secondo quanto riferito dalla dirigenza leccese, aveva pianto, mentre quando l'arbitro Marinelli aveva sospeso la partita per due minuti a causa degli insulti, aveva chiesto di far riprendere il gioco per non darla vinta ai razzisti, secondo quanto detto a fine partita dal presidente dei Salentini, Saverio Sticchi Damiani. Vicinanza e incondizionata solidarietà ai due calciatori, la reazione in una nota del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno. Calcagno, a nome dell'associazione, ha espresso una ferma condanna dell'episodio con l'augurio che si faccia quanto prima chiarezza sull'accaduto e, accertate le responsabilità, si applichino le opportune sanzioni ai soggetti colpevoli di questi gravi comportamenti. Anche il Barcellona, club proprietario del cartellino di Samuel Untiti, ha espresso vicinanza al giocatore. Il Barcellona dà tutto il suo sostegno a Samuel Untiti e ribadisce la sua totale opposizione a qualsiasi segno di violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza, il comunicato del club blaugrana. La Lazio, a sua volta, con un comunicato ufficiale, ha condannato gli ululati arrivati dal settore dei tifosi biancoceresti. Stigmatizzando l'atto di chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso, anacronistico e offrirà, si legge nel comunicato del club, come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso solidarietà a Untiti e all'altro leccese banda per gli insulti razzisti ricevuti durante l'Ecce Lazio. Ed è un giorno di lutto per lo sport italiano. È scomparso Gianluca Vialli, leggenda appunto del calcio. A maggio scorso era a Matera per presentare il suo ultimo libro, intitolato Goal, 98 storie più uno per affrontare le sfide più difficili. L'ex giocatore scomparso a 58 anni lottava da tempo con la malattia che definiva una fase della vita da affrontare con coraggio e da cui imparare qualcosa. Allora noi vogliamo ricordarlo ripercorrendo l'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni. Non l'ho considerata mai una sfida, la considero un viaggio, un percorso. È una cosa che mi è successa, ne avrei fatto volentieri meno, però la devo gestire e credo che, come dicevi tu, l'esperienza e il vissuto da sportivo mi abbiano insegnato a gestire energie, emozioni, a essere motivato, a essere positivo, a essere ottimista, a lavorare su me stesso. E quindi sono tutte cose che ho cercato di mettere poi in pratica quando appunto mi è stata diagnosticata questa malattia e spero, visto che sono ancora qua, speriamo ancora per molto tempo, spero che e credo che mi siano servite. Poi ho dovuto anche fare un lavoro aggiuntivo perché poi quello che avevo fatto soltanto non bastava e mi sono impegnato molto per poter aggiungere cose che avevo già. In un certo senso spero e credo di essere migliorato come uomo. Questa è una situazione che mi ha veramente spinto a migliorarmi e vediamo cosa succede. E noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento e per le prossime edizioni.